Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la mia arte. Un viaggio dentro la vita di un artista per capirne segreti e virtù. Oggi siamo in compagnia della scrittrice Serena Squanquerillo. Salve a tutti, ringrazio Vinicio e tutti gli organizzatori della FEBUS per avermi invitato a presentare me stessa con la mia attività di scrittura e i miei libri, tra cui c'è l'ultima raccolta Fatti Diversi, che vi presenterò successivamente. Grazie per questa bellissima presentazione di te stessa. Parliamo di te sotto il profilo della scrittura. Quando hai iniziato questa attività e quando hai capito che era la forma espressiva che meglio poteva rappresentare le tue creazioni? Allora, la mia esperienza con la scrittura è iniziata all'incirca fine del 2019, non tanto per una ricerca diretta letteraria, quanto per una mia necessità di terapia, quindi una forma di arte terapia, che nel mio caso si è manifestata attraverso la scrittura. Ho iniziato mettendo su un blog online intitolato Il blog di Terea, Diario di una coscienza alla scoperta di se stessa, e man mano attraverso le varie condivisioni di riflessioni e semplici appunti di viaggio, e sono iniziati, diciamo, dei confronti anche con altre persone che mi hanno portato a comprendere che, oltre ad avere un'utilità terapeutica per me e di crescita personale, il mio scrivere aiutava anche altre persone che riuscivano a identificarsi e riconoscersi in ciò che scrivevo. E da lì ho cominciato poi a scrivere dei racconti brevi, delle poesie. Il primo racconto breve è stato pubblicato all'inizio dell'anno scorso, attraverso un racconto che mi chiamano Cancro, ed è un racconto in cui ho parlato della mia esperienza con la malattia, proprio come esperienza di vita personale, che per me è stata un insegnamento, ma anche veramente un'opportunità di crescita. Chiaramente non è un'esperienza che una persona si può auspicare, ma trovandosi in quella situazione è veramente molto saggio e anche una forma d'amore verso se stessi prendere quell'esperienza come un'opportunità di crescita personale e in quel modo mi sono, in un certo senso, fatta anche un po' da portavoce per chi stava vivendo la stessa esperienza, ma non ha avuto la capacità di parlarne e mettersi a nudo, perché comunque mettere a nudo se stessi, soprattutto in esperienze di dolore, non è alquanto facile. E da lì poi ho avuto modo di scrivere, partecipare in altre raccolte dapprima con altri autori, e poi ho preso coraggio, anche incoraggiata da professionisti del mestiere, che mi hanno detto prova a metterti in gioco, e da lì ho iniziato appunto a pubblicare dei lavori monografici. Insomma, assolutamente un nobile intento quello di farsi portavoce di esperienze dolorose, anche come quelle di una malattia, attraverso la scrittura e attraverso un messaggio che in qualche modo hai fatto arrivare a quelli che avevano in quel modo lo stesso problema. Quando si fa comunque arte ci si prefiggono sempre degli obiettivi, cioè cosa si vuole dire, cosa si vuole fare con le proprie opere, quali sono i tuoi obiettivi nella scrittura? Ti ringrazio per la domanda perché è veramente il punto focale di quello che è la mia esperienza. Prima di tutto perché nella mia scrittura scrive esclusivamente di esperienza diretta, che ho provato in persona sulla mia pelle e proprio per motivi di benessere ho compreso quanto sia importante esprimere se stessi, coltivare e dare voce a quelli che sono i propri talenti e coltivare la propria unicità al di là di quello che ci accomuna poi, perché ovviamente le esperienze di cui io scrivo nel mio libro sono esperienze biografiche, autobiografiche, in cui per ognuno di noi, chi per un modo, chi per un verso e chi per un altro può riconoscersi, proprio perché sono delle esperienze umane, non solo perché comunque oltre all'aspetto umano, nella mia scrittura c'è sempre l'elemento anche spirituale, poiché dopo quella che è stata la mia esperienza con la malattia, si è accostato a questo percorso di autoguarigione attraverso appunto un talento e un percorso spirituale di autoconoscenza, ma sono due percorsi chiaramente che si compenetrano, perché per me spirito e materia vanno di pari passo e il mio obiettivo è proprio quello di incoraggiare chi ha difficoltà ad esprimersi, a vivere i propri talenti, a mettersi in gioco, perché come sono riuscita io a superare dei blocchi personali e anche dei problemi di autostima, è importante invece darsi voce e comprendere che è un nostro diritto coltivare la nostra unicità e i nostri talenti proprio perché è un modo per dire a noi stessi ma anche al mondo io esisto, ci sono ed è un mio diritto dare, anche perché nel dare come si dice che è una grande verità che si riceve ed è prima di tutto uno strumento di crescita, per cui il mio intento è proprio quello di incoraggiare, non perdersi d'animo e di mettersi in gioco ovviamente ognuno con le proprie possibilità. Sicuramente un atto di coraggio supportato da una forte volontà, una forte spinta della coscienza. Parlando delle tue produzioni, ci vuoi dire cosa hai fatto fino ad ora, anche se è da poco che hai cominciato a pubblicare? Sì, dunque, come dicevo io ho iniziato nel 2019 con un blog ma senza particolare impegno o pretesa e poi man mano i miei scritti hanno preso sempre più la forma o di una poesia o comunque di una prosa un po' più impostata ed elaborata e ho iniziato pubblicando delle poesie raccolte con due case editrici distinte insieme ad altri scrittori e dopodiché ho partecipato ad un paio di eventi, diciamo, d'arte in cui la scrittura ovviamente si combinava alla poesia e quindi ai versi. Ho partecipato l'anno scorso ad una mostra ad Ariccia, ad una galleria d'arte e insieme ad altri artisti praticamente ho composto delle poesie dedicate ed ispirate da quadri in esposizione. e nello stesso anno, sempre l'anno scorso, ho avuto un'esperienza del genere insieme ad un artista veliterno, Alessio Mariani per il quale ho scritto delle poesie dedicate ai suoi quadri finché mi sono decisa a mettermi in gioco e a pubblicare dei lavori monografici autopubblicati proprio perché sentendo questi, diciamo, scritti come dei figli, dei miei figli personali ho voluto curare di persona, diciamo, tutti i vari passaggi, non per un'immodestia ma proprio perché avevo bisogno di riversare in questi lavori tutti quelli che erano i miei talenti che è uno dei temi principali delle mie raccolte. E parlando delle raccolte fotografici, appunto, ho pubblicato La Magica Danza delle Parole quest'anno, che è una raccolta di poesie e riflessioni ed infine Fatti Diversi, che è il libro che potete vedere qui in esposizione che è la mia ultima raccolta, in cui sono presenti sia riflessioni che poesie che detiche ad animi che ho incontrato, diciamo, nel mio percorso di vita e con le quali ho condiviso delle esperienze importanti, dei passaggi importanti di vita e le tematiche sono varie, diciamo, restano quelle fondamentali dell'unicità dei talenti, dell'esprimere se stessi ma ci sono poi anche tematiche molto attuali quale, ad esempio, delle riflessioni, delle poesie sulla vita, sulla guerra riflessioni sulla morte, sull'amicizia e quelle che sono esperienze che possiamo vivere nel nostro quotidiano di cui, però, sottolineo quelli che sono gli aspetti più didattici e profondi proprio ai fini dell'autoconoscenza Beh, abbiamo avuto modo, comunque, di leggere qualcosa riguardo questa raccolta di poesie e, tra l'altro, traspare un interesse anche per la pittura, direi perché attraverso le poesie si capisce bene che hai anche questa caratteristica questa voglia di fare pittura ci puoi raccontare come nasce e come si unisce alla poesia questa pittura che stai comunque coltivando da poco? Sì, allora, la mia esperienza con la pittura è più recente rispetto alla scrittura iniziata ad aprile di quest'anno quando, come sono solita raccontare un po' così per scherzo ho sentito bussare questo nuovo talento che, ovviamente, sono degli esperimenti di pittura sia astratta che figurativa in acrilico ho iniziato proprio perché dopo, diciamo, l'aver iniziato questo lavoro più in profondità con la parola ho sentito proprio la necessità di vivere quella che è la dimensione dell'immagine e quindi del comunicare chi sono attraverso la pittura e quindi il gioco con i colori, con lo spazio e sempre, ovviamente, per raccontare me stessa ma sempre raffigurare qualcosa in cui possa riconoscersi chi, ovviamente, poi legge e amo molto, diciamo, l'abbinare sempre, anche a maggior ragione, nei miei lavori come l'è stato con le precedenti partecipazioni abbinare la scrittura alla pittura anche perché mi permette di integrare queste due arti perché per me l'integrazione di tutte queste sfaccettature caleidoscopiche nei talenti, oltre che venirmi, diciamo, naturale secondo me è veramente un qualcosa che possiamo considerare probabilmente anche un, diciamo, un punto a cui stiamo arrivando proprio perché vedo intorno a noi sempre una maggiore copartecipazione di artisti che mettono a disposizione in collaborazione proprio i propri talenti diciamo anche che pittura e letteratura in generale si prestano molto ad una commissione ad un mescolamento delle idee e soprattutto in virtù di una spiccata sensibilità che ogni artista possiede non possiamo certo esimerci dal riconoscerlo bene, abbiamo conosciuto con questa intervista Serena Squanquerillo che ringraziamo vivamente per averci fatto conoscere qualcosa di lei e vi diamo appuntamento alla prossima puntata della Mia Arte Grazie a tutti Grazie a tutti.